Ehi la ciurma! Oggi una streak di episodi successivi. Tra l'altro Sinoros è messo malino e mi sa che... non so se abbiamo qualcuno che può... Ah no, questo è il posizionamento iniziale. Per cui... Dov'è Sinoros? Qua. No, vai qua. Fa fede che rischio di bruciarci tutto per degli errori grossolani. Allora, tu devi assolutamente aiutare Sinoros perché... Sinoros è messo molto male. Ma gli ridà solo poca vita perché c'è Burnt. Questo è tutto olio e Burnt. Per favore, segui i miei piedi. Sì, tu sarai bene. Speri dargli anche la vita agli occhi ci siamo. Questo dolce? Bene, significa che sei bene. Allora, questo è sempre i problemi. Perfondo che l'ho tirato giù, tra l'altro. Cioè, l'ho ritirato su perché altrimenti sarebbero stati nei guai... Mica da ridere. Ehm... Lui riesce a... Sì, vai su di lui però. Acceso o no? Non abbiamo nessuno che ha dei pila. No, ce l'avevo solo io, effettivamente. Andrei qua, ma poi ho paura che non ho abbastanza... Ecco... Sapevo. Allora, restate nell'albero. Ehm... Poi... no, Braceton ce l'ha. Ne ho tre X di radius. Ehm... Ah, potrebbe prendere di... Di là, ma solo là. Mhm. E ora, anche se l'altro non lo triggerà gli attacchi d'opportunità. Adesso è quello. Poi qua per proteggerti un po'. Devi tirare giù tutti gli arcieri. Sono uno, due... Tre, quattro... Ah cavolo, sono un po' dappertutto. L'avevo visto che c'erano anche dall'altro lato. Fino allo smuoviti. Fino allo smuoviti. Noi, inizio, questo l'ho visto. Fino allo smuoviti. Paltz, è il momento di lasciare che queste persone prendono le loro medizie, credo. Allora, dimostra che gli architetti romani sono i migliori del mondo! Ah, qua c'arriva? Direi che c'è questo arciere in tante Questa sì Qua? 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 E qua? E si spostano ovviamente Alla 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 Questo ce lo perdiamo. Mi sa. Prendiamo un kill Questo è quello. Poi lui è detto anche qua. Qu'è? 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 Buonissimo. Quella non lo vede. Quella non la vede. Quella lo tirava giù ma serve a poco. Eh. Da un danno a quello. 2-3 però. Propriamo. No. E poi sono le mie o sono le nemiche? Ok sono le mie adesso. Poi poi hanno fatto forse quelle nemiche e poi hanno fatto le mie. Allora Io farei così Ma qua abbiamo detto, sì Fai qua E almeno quello ce lo puliamo per forza Qua fai così E con l'altra fai E questa invece facciamo No, qua Qua I can't take this anymore I don't want to die Andiè Però non so se si salva o che è scendendo Eh, si è allontanato, sì, si salva 6 Buono Buono Ok, dai ne abbiamo altri Ma facciamo andare giù ma con onore No, qua c'è un macello incredibile con voi No, allora tu puoi un pila di romino Qui troppo lontani adesso Qua lo vedo Qua lontano Qua lontano ėn Io provo a tirare giù questa barricata in modo da riberare un po' di spazio. Che abbiamo ancora? Questi che... Boh... Prendo il pilum e... Boh... Fai tutto in fiamme. De Nero ha delle bene, in questo momento mi sa che non servono, sarò per lui che ormai... Ho sbagliato tutto... Ho sbagliato tutto... ... 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 No, aspetta, è questo, eh? Ma hai il range di uno, eh? Per il resto, sono mica così percidi, al fine Mi auto-file E poi di giro di fireball Tutti sull'arciera stupido e disobbediente Te ne vorrà per tirare giù tutti comunque, mi sa E' necessario, vai! Ancora Altri arcieri Ancora Sto ancora disobbediente, sto sciocco Ah, quello è bruciato, lo sto ancora bruciando Senti, sali qua E salva questo Questa è anche un Piron, che non sarà niente Ok, non ho scopo giudato Non ho scopo giudato Ah no, le catapulti di moff Ehm, facciamo uno scattershot Questa è un po' Ehm, facciamo uno C'est pas l'Ema. Non scende perchè sa che ci sono gli scattershot Ma non perchè te li risali Per punire quel mio incapace Ma l'avevo ancora andato, teoricamente Ah僅te, te che ma59 Ii non si accade, ma che ne sono mai riuscito Alcine, il enemy! Attacca! Parola! Ah, no, sono ancora even incontrivo Quello che ho accade, allora Poi che.. Ah.. Ah.. Può togliere burning ma non burned Rapp è così È una curina Piccola ma sincera Questa è lo scudo Repair Prova dubbio e tira tu qua adesso che Semmai Eeeh Boh Ma che fare non lo so Perché magari Magari l'accerchiamento qua se possibile Ah Questo si è ripigliato Bravo finalmente Eh Questo è l'altro che l'ha Ah puoi prendere Cos'è questo? No una cassa e basta Aia Abbiamo perso L'arciere inutile Ok è andato Quello è andato Però abbiamo un arciere giù a terra Eeeh Come c'è? Facciamo lo scattershot di qua E' andato Il fuoco continua E' andato Il fuoco continua Si allontanano ovvio Si allontanano ovvio Ok è andato A scuola E' andato Mettere Ma Ok c'è un passaggio E' andato Era un passaggio E' andato E' andato Quindi E' andato Molto E' andato E' andato E' andato E' andato E' andato Non è nera morto, vedi? A ver... Eh... nulla Vediamo là Comunque si feceva il giro In parte Eh... Ahia... Ahia... Ho capito, tu ti sei messo in mezzo ai piedi Facciamo... qua, così quando arrivano i rinforzi Teoricamente... C'è un po' di casino Ehm... 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 Un altro Ehm... 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 Lui non ci arriva però... Ne voglio addosso almeno Ehm... 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 Ehm...